Allora Alessia, non è responsabilità importante conquistare la finale in casa, però insomma non avete sofferto la tensione, direi? Direi di no, siamo partite molto aggressive e si è visto, a parte il secondo set, che siamo rimaste punto a punto all'inizio e poi siamo state brave a spingere quando c'era da spingere. Diciamo che a queste finali ci arrivate nel miglior momento possibile, poi sappiamo che le partite secche fanno storia a sé. Sì, le partite secche fanno una storia a sé e noi comunque stiamo lavorando tanto per arrivare a questi appuntamenti pronti e quindi ora vedremo. Quanto sarà importante giocarla qua davanti a questo pubblico? Sarà importantissimo, si sa che il pala Yamamai è caldo, soprattutto quando organizzano questi eventi qui. I nostri tifosi sono veramente bravi e belli da vedere. Vediamo, sono felice che sia il pala a casa nostra. Grazie. Grazie.